Vivere in armonia con se stessi, con la natura, con gli altri, imparando a riconoscere e a esprimere le melodie e i suoni della nostra vita e quelli della natura. E' questo lo spirito con cui è nato il festival Melos Mente, giunto alla seconda edizione, presentato stamattina nella sala giunta del Comune di Viareggio. Questi tempi impongono la promozione di una consapevolezza ecologica, di una consapevolezza dell'ambiente, di un'etica della natura. L'abbiamo visto anche con quello che è successo durante la pandemia. Perché? Perché per me è importante promuovere appunto nelle persone una crescita personale e il recupero appunto di un'etica della responsabilità perché soltanto una società fatta di individui consapevoli, più consapevoli, è una società sana, armoniosa, è una società dove si può veramente vivere con livelli di solidarietà, di fratellanza e di collaborazione come ci insegnano le piante che il famoso botanico Stefano Mancuso ha studiato. Lo spettacolo andrà in scena il 24 e 25 settembre prossimi. Grazie. 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 Grazie.